Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio parlare di questo prodotto, un profondo creato da Creation Lamis Colosseum. Allora questo è una specie di dupe molto simile all'originale, l'ho provato tutti e due, sia l'Aurebieggiotti Roma sia Colosseum e devo dire che sono praticamente identici. L'unico problema è il prezzo. Quello 75 mg costa 38 euro, questo 100 mg costa 5 euro, da comprato d'acqua e sapone. Vi faccio vedere la confezione. Ci sono gli ingredienti, scrivendo tutte le lingue. Ed è molto simile all'Aurebieggiotti Roma, anche come persistenza non è male. Io l'ho provato nel mio braccio ed è durato un bel po'. Quello che c'era una volta di Colosseum durava poco. Ora invece hanno migliorato secondo me la formula e l'hanno fatto in modo che risulti un buon profumo. Infatti è abbastanza buono. Per 5 euro ragazzi vi portate a casa un profumo che è fenomenale. Io ve lo consiglio. Certo è un dupe, non è quello originale di Laura e Biaggiotti, però dalle doti eccezionali devo dire. Dalle doti eccezionali. Io ve lo consiglio. Provatelo. Provate Laura e Biaggiotti Roma e provate Colosseum. differenze minime. Provate sicuramente Laura e Biaggiotti durerà di più come profumo messo addosso. Però Colosseum dura abbastanza. Ve lo consiglio ragazzi. Comunque questo è tutto per questo video. ragazzi io parlo di tantissime tante cose. Armi, soft air, profumi, motori, di tutto ragazzi veramente. Sicuramente troverete un video che farà per voi. Ci vediamo al prossimo video. A presto.